6.121 Sisto, contrari, 6.122 è ritirato, 6.3 Civati, favorevoli, 6.24 Fraccaro, favorevoli, 6.25 Fraccaro, favorevoli, 6.123 Sisto, contrari, 6.124 Sisto, contrari, 6.125 è ritirato, 6.126 Centemero. No, il 6.125 è ritirato, l'hanno ritirato nel frattempo, sì, 6.126 Centemero, contrari, 6.34 identico, 6.8 Centemero Parisi, contrari, 6.127 Centemero, contrari, 6.37 Sisto, contrari, 6.42 Centemero, contrari, 6.38 Sisto, contrari, 6.41 Sisto, contrari, 6.39 Sisto, contrari, 6.40 Centemero, contrari, 6.19 D'Ambrosio, favorevoli, 6.36 Scotto, identico, 6.128 Cecconi, favorevoli, 6.400 della Commissione. Ci rimettiamo all'Aula. Grazie. Allora, passiamo all'esame e ai voti degli emendamenti. Ah, il Governo, scusi, onorevole, sottosegretario Scalfarotto, prego. Grazie, Presidente, conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora, 6.20 Fraccaro, parere contrario, Commissione, Governo, relatore Forza Italia, favorevole, relatori 5 stelle, sì, aperta la votazione. Formisano. Formisano. Gigli. Forza, collega. Grazie. Grazie.